Un tragico incidente si è verificato in Contrada Zangarona di La Mezzia Terme nel pomeriggio di ieri 24 marzo, che ha causato la morte di un uomo di 53 anni. Il malcapitato era alla guida del suo trattore che si è ribaltato provocandone la morte immediata. Non sono ancora note le cause che hanno provocato la perdita del controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di La Mezzia Terme del comando provinciale di Catanzaro e dei sanitari che hanno constatato il decesso per schiacciamento del 53enne. I rilievi per costruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dal personale del commissariato di La Mezzia della Polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza il sito e il mezzo agricolo in attesa dell'autorizzazione del medico legale per la rimozione della salma.